Migliorare la qualità della vita nelle città attraverso la condivisione delle esperienze migliori e la partecipazione delle associazioni locali. È la formula di Urbact, l'unico programma europeo di cooperazione territoriale a occuparsi esclusivamente degli ambiti urbani per promuovere modelli di sviluppo integrato, sostenibile e partecipato. L'Italia ha predisposto una cosiddetta agenda urbana in cui sia le risorse del FESR che quelle dell'FSE verranno dedicate a interventi che vogliono migliorare la qualità della città, la rigenerazione dei quartieri in difficoltà, l'efficientamento energetico degli edifici ma anche sviluppo di modelli di trasporto sostenibile piuttosto che marketing urbano puro. In Italia avremo almeno il 5% di tutte le risorse della futura programmazione dedicato alle città e che a livello nazionale ci sarà un programma operativo dedicato alle aree metropolitane. Napoli sarà una delle città che avrà quindi anche risorse dedicate a livello nazionale. Al PAN un seminario di due giorni insegna a preparare correttamente un piano d'azione locale che potrà poi essere finanziato dall'Unione Europea. 15 città italiane sono coinvolte in una rete sovranazionale di scambio di competenze sui temi specifici che riguardano il governo delle città. Ci sono delle città italiane che lavorano come la città di Messina per esempio lavora sulla sustainable food, quindi sulla produzione anche messe in rete, temi della filiera corta, di produzione di qualità nell'ambito alimentare. C'è un altro network come quello della città di Roma gestito in questo caso direttamente dall'università che lavora sulle periferie, sulla housing sociale, cioè sull'alloggio sociale che sempre meno viene considerato nelle politiche urbane italiane, che però invece è un tema importante perché è dove si trovano le più forti problematiche sociali. Gli ambiti di intervento di Urbact sono i più diversi. Si va dalla gestione degli spazi pubblici alle scelte sulla viabilità urbana, dalle politiche di integrazione sociale al presidio della qualità ambientale. Il comune di Napoli è capofila del progetto per lo sviluppo urbano sostenibile. Napoli sta cercando di costruire un piano d'azione locale, il tema è il non consumo del suolo ma nello stesso tempo come creare opportunità di sviluppo economico senza consumare.